un saluto a tutti a snowkills e ben ritrovati in un nuovo video che riguarda diciamo caster clash perché oggi volevo portarvi due canali sponsorizzare due canali di caster clash che sono diciamo due amici di game e quindi parliamo molto discutiamo molto e mi farebbe piacere se vi iscrivesse anche loro canali e una info su twitch del mio canale allora iniziamo dal primo canale che è giulio 22 si è appena ha iniziato da pochissimo questo canale però oltre a essere un membro della mia gilda ho parlato spesso con lui e mi ha dato spesso il suo account per fare dei video e quindi siccome l'ho visto molto molto motivato in questo breve periodo che è iniziato il canale ha fatto già bei video e anche delle bellissime copertine quindi ho deciso di dargli fiducia e portare a provare a portargli qualche nuovo iscritto perché è un canale che potrebbe davvero interessarvi un altro canale che alcuni di voi conosceranno sicuramente e altri no e mi piacerebbe anche che su questo canale arrivassero dei nuovi iscritti che potessi portare nuovi iscritti perché il sante è presente da molto tempo anche nella chat che abbiamo tutti noi youtuber di caster clash e discutiamo spesso con lui e soprattutto tra art argomenti molto interessanti sul suo canale che è quasi interamente dedicato a caster clash tranne qualche video di lol ma comunque è un canale di caster clash quindi se non siete ancora iscritti a questo canale e anche a quello di giulio 22 vi invito a iscrivervi e soprattutto vi invito a visitare anche il mio canale di twitch ragazzi perché su questo canale sto facendo ho iniziato a fare spesso live per accumulare delle ore per la partner quindi ogni volta che mi metto a giocare mi collego live qui per chi ovviamente cerca soltanto contenuti strettamente inerenti a caster clash cioè magari sapere qualcosa di particolare potrebbe non interessarli chi invece magari all'inizio potrebbe essere interessante anche vedere delle normali partite soprattutto io ci sono sempre quindi potete chiedermi qualunque cosa e posso far vedere qualunque cosa in live perché qui è molto più leggero diciamo qui su su twitch c'è un piccolo problema sul cambio di risoluzione perché ancora non sono partner ma tra poco spero che si potrà settare la risoluzione anche qui cercherò di non fare più a 60 fps in modo tale che tutti quanti possano fruire del della live senza lag e senza niente quindi per questo mini video è tutto se vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale di giulio 22 è il sante io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video